buonasera a tutti benvenuti a questa 3d room che è un po' la svolta di un lavoro lunghissimo che parte da due anni fa perché ho voluto creare un qualcosa che automatizzasse un po' la mia strategia però un qualcosa di molto prudente di molto sicuro che lavorasse sui time frame inferiori quindi vi annuncio che dai primi di gennaio dopo le feste di natale sarà in commercio l'indicatore otv l'indicatore tv significa indicatore on the waste l'indicatore della mia strategia quindi proprio subito dopo le feste sarà in commercio l'indicatore io in questo mese qua cercherò di spiegarvi come funziona è molto semplice già a cominciare da oggi ma cosa fa l'indicatore on the wave praticamente chi mi conosce da tanto tempo e sta con me da tanto tempo pure fa l'academy sa che io vado a ricercare segnale weekly o daily quindi cosa fa l'indicatore on the wave per prima cosa ricerca segnale weekly dopo la chiusura della candela weekly la candela weekly chiude il venerdì sera alle 23 quindi da quel momento l'indicatore va alla ricerca dei segnali weekly e cosa fa oltre a ricercarli fa una foto dei segnali e li mette in una cartella del vostro del vostro pc quindi al vostro pc ce l'hai solo te il problema massimo per l'audio gli altri sentono tutti allora quindi quando va alla ricerca di segnali weekly cosa fa automaticamente prepara il piano di trading settimanale ossia è il piano di trading settimanale è quello che prepariamo noi tutti tutti lunedì quel foglio che io vi mando con tutti con tutti i grafici lo prepara automaticamente quindi in pratica è andrea carosi che lavora autonomamente e poi che fa ogni giorno alla chiusura della candela daily va alla ricercare segnali in trend con il piano di trading questi segnali ve li mette in una cartella del pc col nome del segnale inoltre inserisce nella cartella i livelli di ingresso a mercato limit quindi in questo indicatore cosa fa prima fa il piano di trading poi va sui grafici daily sui grafici del valace la ricerca di segnali in trend rispetto al grafico weekly cosa fa fa la foto del segnale e ve la manda nella vostra cartella con 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 tutti gli estremi ok quindi durante la giornata potete controllare tranquillamente l'andamento dei segnali perché basta fare poi manderemo l'analisi e potrete fare le foto dei segnali a qualsiasi ora della giornata se voi entrate a mercato alle 23 magari il giorno dopo voi potete fare la foto del segnale vedere come sta andando questo indicatore può lavorare contemporaneamente su 100 strumenti scusate un attimo ok può lavorare su 100 strumenti sia di forex indici azioni metalli e petrolio quindi potete mettere ognuno può inserire gli strumenti da dare che vuole basta che siano supportati dal proprio broker vi faccio un esempio fxd non ha le azioni vi faccio vedere fxd se io faccio nuovo grafico vedete che non ha le azioni quindi io non le posso inserire ma chi ha per esempio avatrade in avatrade ci sono le azioni andiamo a vedere se io apro la piattaforma avatrade avatrade in tutti i a guardate se io faccio fare nuovo grafico vedete quanti ce n'ha alle azioni a vedete guarderci apple google facebook posso inserire anche queste quindi chiunque chiunque ha io posso inserire qualsiasi qualsiasi elemento supportato dal mio broker chi lo usa chiaramente deve gestire il rischio per segnale fare attenzione alle news del giorno dopo e non entrare e non entrare su sui correlati ossia io prima di mettere un segnale alle 23 devo guardare il giorno dopo se ci sono notizie faccio un esempio se stasera alle 23 si forma un segnale su euro dollaro e domani parla draghi non è conveniente entrare se l'indicatore segnala un segnale su euro oppure se se segnala un segnale su dollaro norvegia ottv supporta tutti broker tutti broker io fxd chi ha ava tutti broker io qualsiasi broker o posso utilizzare l'indicatore non ci sono problemi con il broker l'unica cosa che dovete mettere i cross inseriti nel posto broker se fxd non ha le azioni non posso mettere le azioni se ho il conto se ho il conto con fxd è chiaro questo ci siamo quindi quali sono gli elementi gli elementi sono quelli che io posso mettere e che mi da il mio broker quindi andiamo a vedere andiamo vedete poi vediamo come l'indicatore può essere acquistato ecco cosa fa l'indicatore si può si può usare contenere probabilmente con più broker allora guardate cosa fa l'indicatore andiamo a vedere andiamo a vedere per prima cosa cosa ha fatto giovedì scorso prima dei non fan per all ho fatto un video e poi facciamo quello di oggi questo è il video cosa faccio io vado nella pagina vado nella pagina e clicco alle ore 23 il tasto analyze che chi compra l'indicatore avrà su un grafico clicco analyze e automaticamente l'indicatore mi fa tutte le foto dei grafici weekly e daily vedete week e daily su una cartella sul periodo di uno vedete che mi manda tutti questi sono segnali che ha guarda che ha visto giovedì sera questi segnali qui io li ho cliccati all'una per vedere l'andamento quindi tutti questi segnali qua vedete sono mi sembra 15 vediamo l'andamento che ha avuto durante la giornata cominciando come vedete australe dollaro questo è il segnale siamo in pareggio oppure chi è entrato limit sta in guadagno vedete 1 poi andiamo avanti andiamo avanti con i grafici poi faremo quello faremo quello di oggi ecco cad chf vedete segnale e questo è il guadagno allora guardate la penultima candela è la candela che ha generato il segnale alle 23 questa candela qui è lo sviluppo del segnale allora a qualsiasi ora del giorno quindi alle 11 a mezzogiorno quindi la penultima candela e genoa quindi se io vado dietro guardate allora la penultima candela genera il segnale questo è l'andamento del segnale poi guardate cad chf vedete la questa candela qui genera il segnale guarda che però dice questo qui è un engulfing quindi engulfing by e questo è l'andamento del segnale andiamo avanti questo è il segnale e questo è l'andamento del segnale questo è il segnale e questo è l'andamento giornaliero del segnale quindi in positivo questo è il segnale e questo è l'andamento vedete questo qui è il segnale il nome del segnale big candle e questo è l'andamento questo è il segnale un hammer e questo è l'andamento questo è il segnale e questo è l'andamento solamente in questo siamo leggermente in passivo qui usd uhf engulfing e siamo in attivo guardiamo prima questo dollaro polonia in attivo dollaro singapore dollaro chi entra a mercato è leggermente in passivo e gli altri in attivo quindi in base a questo video su 14 segnali 12 sono in attivo vediamo adesso cosa è successo ieri sera poi facciamo tutte le domande ieri sera alle 23 clicchiamo analizza guardate la modifica che abbiamo fatto in svizzera ammettiamo che voi avete l'indicatore e avete questo grafico clicco analizza ecco guardate quello che fa fa l'analisi weekly su tutti i grafici su tutti i grafici una volta terminata l'analisi weekly su tutti i grafici fa l'analisi daily vedete questo tutti i grafici in questo momento l'indicatore sta analizzando analizzando il piano di trading finito il piano di trading vedete weekly passa a daily e guardate quando trovo un segnale mette gli estremi guardate adesso troverà dollaro ecco zar vedete ha messo messo gli estremi per entrare continua a fare l'analisi e vediamo e vediamo quanti segnali ieri sera individuato l'indicatore guardate ecco cosa ha fatto l'indicatore in pratica ha fatto le foto di tutto e la mandate guardate in questa cartella vedete questa cartella qua in questa cartella ho tutti tutte le foto dei piani di trading tutte le foto vedete sono più di 50 cross vediamo che segnale ha individuato ieri sera solo il segnale su euro zar clicco su euro zar eccolo qua ieri sera ha individuato questo segnale vedete che vi dice che è un engulfing cell questa penultima candela in questo momento il segnale è inattivo vi da due tipi di entrate l'entrata al mercato l'entrata al mercato e l'entrata self stop quindi voi dovrete scegliere se entrare al mercato alle 23 oppure self stop al ritracciamento del 40% quindi ieri sera l'indicatore ha individuato un solo segnale su dollaro zar su dollaro zar e questo segnale in questo momento vedete è inattivo ok quindi questo è l'indicatore on the waves on the waves e adesso quindi potete fare tutte le domande del caso è sell limit sono solo sell limit sell limit vi faccio vedere sell limit è sbagliato qui sell limit sono entrati sell limit ok sì sì sell limit il segnale lo genera alle ore 23 quindi quando è che io andrò a cliccare analizza stasera alle 23 quando chiude la candela daily andrò a cliccare il tasto analizza se lo clicco adesso se lo clicca adesso mi va a vedere solamente la situazione del segnale perché se io lo clicco adesso mi va a vedere solamente il segnale euro zar ti dà anche lo stop loss non dà il take profit perché poi ve lo gestite voi questo indicatore dà l'ingresso lo stop loss e il take profit lo gestite voi con stop a zero ok quindi la cosa è molto semplice acquistando l'indicatore io lo vado a mettere nella mia metatrader e la sera alle 23 basta cliccare questo tasto e vedete che ricomincia ricomincia da capo per la size per la size ognuno calcola calcola l'uno per cento due per cento lo zero cinque per cento del capitale del capitale del capitale la cartella viene creata automaticamente la cartella viene creata automaticamente nel vostro profile nel vostro pc e la mia cartella vengono create qua guardate io metto cartelle grafici otv me la viene creata qua vedete mi sta creando adesso le cartelle le cartelle vedete del weekly e adesso nel daily mi creerà il segnale vedete il segnale daily io posso entrare sul segnale o alle 23 o anche la mattina sul daily mi va a vedere il segnale eurozar quindi clicco su eurozar eccolo qua vedete quindi se io continuo a cliccare sul pulsante mi vede chiaramente solamente il segnale eurozar come chi sta con me da tanto tempo sa che appena ho un certo guadagno metto lo stop a zero sul 4 ore non genera segnali questo è un indicatore weekly e daily non genera segnale sul 4 ore non genera segnale sul 4 ore l'ho detto qua questo è ricerca segnale weekly e segnali daily vi faccio vedere dove sono i segnali weekly guardate il segnale weekly quando lo genererà secondo voi non bisogna tenere acceso niente basta accendere il computer il computer può rimanere acceso il segnale weekly quando lo genererà il venerdì alle 23 andiamo a vedere guardate cosa vi dice andiamo a analizzare i grafici weekly il grafici weekly mi dice che c'è stato un engulfing cell 3 candele fa quindi 1, 2, 3 quindi a UDCAD non c'è stato un segnale weekly a UDCHF a UDCHF qual è stato l'ultimo segnale weekly questo è un engulfing buy 2 candele fa Australia Nuova Zelanda quando c'è stato l'ultimo segnale sell questo li legge automaticamente una candela fa andiamo a vedere un segnale allora andiamo a vedere un segnale quando c'è un attimo quando si formano segnali weekly weekly qui forma engulfing e buy zero quando è zero si formano segnali ok ci siamo quindi quando vado sul grafico weekly vedete qua meno 1 significa che il segnale buy dove era la candela 1 la candela prima meno 1 la penultima candela meno 1 guardate qua euro euro stellina turca l'ultimo segnale era questo questo se finisce così lui dirà cosa dirà secondo voi se finisce così venerdì dirà engulfing sell zero engulfing sell zero e vuol dire che posso entrare weekly ci siamo engulfing sell zero allora quanti segnali posso aggiungere guardate tutti questi sono i cross che posso che ho io ma io posso aggiungere fino a 100 elementi fino a 100 elementi se io volessi aggiungere un indice per esempio facciamo un esempio voglio aggiungere un indice allora nuovo grafico vediamo il nome degli undici voglio aggiungere nat gas nat gas non faccio altro che consigliere esperti proprietà e aggiungo nat gas per esempio che è un indice lo metto qua nat gas ok quindi adesso lui mi inserisce automaticamente nat gas vedo bene infatti se io faccio analizza guardate che poi quando arriva mette anche nat gas guardate prima non c'era in ordine alfabetico euro cad euro chf euro sterlina euro yen nuova zelanda guardate guardate n adesso che vanna n vediamo se lo fa alla fine va a inserire tutti i sottostanti che ho messo anche nat gas eccolo qua vedete nat gas ok e quindi va a cercare se ci sono segnali anche su nat gas forzatura significa che se il grafico weekly non è non dà un segnale pulito allora io posso forzare il piano di trading ossia se per esempio sul weekly dell'indicatore mi dà piano di trading e sell ma il piano di trading non è molto chiaro io lo posso forzare a mano ok quindi questo è quello è quello che succede la cosa importante la cosa importante è che voi inserite inserite l'indicatore nella vostra metatrader posso generare il segnale su una metatrader per esempio se voi non avete la metatrader 4 scaricate una metatrader anche demo anche demo vedete i segnali in quella metatrader e poi li trasportate sulla vostra metatrader ok va bene quindi i segnali nei test che abbiamo dato sono questi 31,97% dall'inizio che ho testato dal 20 settembre ok 20 settembre entrando sempre con 0,01% su un conto da 100 euro conto da 100 euro va bene questo è il rendimento che ha avuto quindi in pratica in pratica questo indicatore se uno fa l'abbonamento vi viene inviato è molto facile da installare sulla metatrader basta che alla sera alle 23 cliccate qui vi faccio vedere come si crea la cartella guardate allora la cartella è questa la mia guardate la cancello elimino la cartella vediamo come si crea guardate 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 vedete adesso è vuota io clicco analizza e guardate che succede vedete la cartella si va a riempire con le foto io clicco vedete che mi sta facendo il grafico mi sta facendo le foto mi sta facendo le foto guardate si aggiunge si aggiunge la foto vedete fa la foto del piano di trading dopo ne parliamo dell'acquisto vedete fa prima la foto del weekly e poi la foto del daily guardate fra un po' comparirà la cartella daily se ci sono segnali guardate finisce il weekly ogni sera cambia la cartella guardate finisce il weekly adesso part daily se ci sono segnali mi fa una cartella daily guardate chiaramente qui scaturirà solo il segnale eurozar guardate eurozar vedete che adesso me lo va a mettere periodo 1 ecco qua eurozar mi fa la foto del segnale e io lo posso scaricare qua è chiaro vedete mediamente al giorno non lo so però ci sono giorni che fa 10 segnali giorni come ieri che ne fa 1 giorni che ne fa 5 giorni che ne fa 8 non c'è una media dipende dal piano di trading quindi cosa fa lui va sui grafici weekly vede qual è il piano di trading in base al piano di trading in the week per esempio euro dollaro com'è il piano di trading su euro dollaro buy quindi lui andrà alla ricerca sul grafico daily di segnali buy ok sono stato chiaro? per il take profit per il take profit il take profit si calcola o 1 a 1 1 a 1 si calcola 1 a 1 il take profit quindi questo segnala fa il segnale di ingresso con lo stop e il take profit lo calcolate voi non fa mai segnali contro trend il rendimento da settembre è 31,97% con un conto da 100 euro entrando sempre con 0,01 quindi a differenza vedete noi rubrica a volte inseriamo dei segnali didattici a rischio 0,5% l'indicatore non li fa mai fa solo segnali in trend in trend con il piano di trading facciamo un esempio sterlina dollaro com'è il piano di trading di sterlina dollaro per quelli che stanno in rubrica di sterlina dollaro è buy sterlina dollaro è buy e quindi andrà alla ricerca di segnali buy australia dollaro com'è il piano di trading sell e quindi va alla ricerca di segnali sell ok quindi questo è quello che fa l'indicatore se io volessi aggiungere altri strumenti basta che vado nelle proprietà proprietà e aggiungo lo strumento che voglio voglio aggiungere CAD Yen CAD Japan Yen lo aggiungo CAD Japan Yen lo aggiungo e me lo calcola se voglio aggiungere Australia Yen aggiungo Australia Japan Yen io non li ho messi quindi io non mi piacciono gli yen e quindi trato solo due yen qui non li ho messi i cross il piano di trading fa tutto lui questa qui è la versione la versione che poi man mano potrebbe essere potrebbe essere migliorata per ora è uscita così questo non è un EA questo è un indicatore questo è un indicatore non è un EA quindi a risposta di Giuseppe Giuseppe dice che vengono presentate diverse proposte di trading no la proposta di trading è una perché allora non ampliate le prestazioni in modo che fra le diverse proposte io possa cliccare quella che accetta e automaticamente vengono inserite sulla metatrader questo sarebbe un expert questo è un indicatore di segnali questo è un indicatore di segnali è molto affidabile così com'è cioè vi dice il segnale vi dice l'ingresso vi dice lo stop la gestione la dovete fare voi non è che può fare tutto almeno quello almeno la gestione dovete farla voi ossia lo stop a zero e il take profit è uno a uno almeno quello i segnali in caos e statistico non li filtra perché lui prende segnali solamente quando la media è inclinata quindi certo che qualche volta certo che domanda è che qualche volta è andato in stop i segnali su 10 magari 2 vanno in stop e 8 vanno in profit è una domanda molto stupida se vanno in profit certo i stop esistono ma perché fate queste domande così stupide e qualche volta è capitato che andava in stop perché perché ancora non avete capito che nel forex esistono gli stop ma in che mondo vivete se pensate che nel forex non esistono gli stop io non vi prendo in giro dicendo che nel forex non esistono gli stop statisticamente esistono questo indicatore statisticamente va più in profit che in stop ma come fate a fare una domanda è mai capitato che andate in stop certo ci sono segnali che vanno in stop ma una buona strategia è una strategia che per la maggior parte delle volte i segnali non vanno in stop soprattutto te dai è una vita che sta in rubrica mi dici pure sta roba qua vabbè comunque questo è per rispondere a Tiziano questo indicatore tiene presente le onde di Elliot certo certo questo indicatore tiene presente le onde di Elliot e questo indicatore quando quando il cross è in caos statistico non crea segnali perché le medie sono piatte questo indicatore entra a segnali su medie ben inclinate faccio un esempio se questa media è piatta non entra a segnali la media deve essere sempre deve essere sempre orientata allora rispiego quando arriva un segnale vi da due possibilità entrata sell a mercato entrata sell limit questo è errato lo vado a cambiare tanto l'indicatore entrerà a mercato dopo gennaio il primo di gennaio entrata sell limit entrata a mercato potete scegliere voi entrata a mercato no allora rispondo a Giuseppe questo indicatore non ci vuole tempismo bisogna andare alle ore 23 della sera a cliccare il tasto analizza una volta cliccato dopo un minuto ti dà il segnale allora rispondo allora esiste una equity lo ridico questo è un track record di un conto demo 100 euro ha avuto il 31 e il 97 dal 20 settembre questo è la equity questo è la equity ok l'indicatore usa medie già stabilite che sono le mie statisticamente è meglio entrare sul limit sul mercato limit l'indicatore considera tutte e due le medie ok quindi voi se io non sto a casa alle 23 se io non sto a casa alle 23 e arrivo al mezzanotte all'una è uguale perché è uguale perché perché tanto da 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 mezzanotte all'una non cambia niente voi entrate con un ordine pendente o a mercato quando arrivate ok dopo 50 pips si può mettere lo stop in pari però questo non lo può fare questo qua perché questo è un indicatore sì non abbiamo preso per Draghi allora il segnale Eurozar Eurozar perché non sono entrato non sono entrato ieri perché domani parla Draghi quindi non sono entrato quindi bisogna stare attenti alle notizie va bene andiamo a vedere allora andiamo a vedere i segnali che ci sono stati che ci sono stati venerdì metto chiuso mercato guardate andiamo a vedere i segnali che ci sono stati venerdì faccio faccio l'analisi guardate andiamo a vedere i segnali weekly di venerdì sera chiaramente adesso lo diciamo quale sono Giuseppe le condizioni non l'abbiamo ancora detto allora vedete adesso sta facendo l'analisi weekly di venerdì guardate di venerdì attenti andiamo a vedere venerdì quanti segnali weekly ci sono stati guardate attenzione ecco ho fatto l'analisi terminata l'analisi andiamo nella cartella cartella indicatore allora abbiamo detto che il venerdì troverò segnali quando c'è scritto engulfing sell 0 vediamo quanti sono vediamo se li trovo ecco qua guardate Australia Australia big hammer buy 0 se finisse così guardate se la settimana finisse oggi l'indicatore dice che sul grafico mensile sul grafico mensile si è formato un segnale buy su aus 2000 che è questo e ve lo dice si chiama big hammer weekly vedete weekly poi 0 Australia euro se finisse adesso sarebbe un engulfing buy su euro Australia guardate euro cad se finisse adesso questo è un big hammer segnale weekly guardate euro franco svizzero se finisse adesso sarebbe un segnale weekly vedete eccola qua guardate euro sterlina se finisse adesso che segnale ci sarebbe sul weekly di euro sterlina un big hammer buy e quindi si entra a mercato weekly quindi come vedete questi sono tutti i segnali weekly guardate euro yen questo qui è un big hammer buy 0 è un segnale weekly su euro nuova zelanda c'è un segnale weekly guardate su euro nuova zelanda c'è un segnale weekly no perché doveva essere zero euro secche c'è un segnale weekly no euro dollaro c'è un segnale weekly si se finisse così se oggi fosse venerdì sera se oggi farebbero un engulfing vedete engulfing buy euro zar quindi saremmo entrati lunedì euro zar engulfing sell c'è un segnale no perché è meno due il segnale è questo vedete due candele fa vi dice il segnale l'ultimo segnale weekly su euro zar è due candele fa uno e due poi gbp aud shooting sell vedete è sell gbp cad big shooting star sell vedete zero gbp chf guardate big shooting star sell e così via quindi questo indicatore tornando tornando al pannello ricerca segnale weekly dopo la chiusura della candela weekly vi fa la foto del segnale e vi mette zero quindi il vostro compito qual è il venerdì sera oppure il sabato oppure la domenica cercate segnali weekly tutte le sere la chiusura della candela daily cercate segnali daily quindi l'impegno se per esempio il vostro broker chiude alle 24 la chiusura sarà alle 24 se il vostro broker chiude alle 22 la chiusura alle 22 la cartella viene sovrascritta ok la cartella viene sempre sovrascritta non dovete stare sempre a cancellare guardate guardate ve la faccio vedere se io faccio l'analisi guardate se io faccio ancora l'analisi guardate che fa clicco analisi guardate la cartella weekly scompare guardate analisi scompare la canterra weekly vedete weekly ricomincia quindi non avete problemi di cancellare le cartelle va bene quindi il funzionamento è molto semplice avete due impegni l'impegno del venerdì sera oppure sabato sera o domenica sera perché i segnali weekly li potete benissimo trovare quando il mercato è chiuso quindi venerdì sera sabato sera domenica sera ok invece i segnali daily alla chiusura va bene quindi questo è questo come sarà commercializzato questa è una pagina che ancora non si vede allora abbiamo cinque possibilità di acquisto l'abbonamento mensile all'indicatore 99 euro al mese e basta quindi invio indicatore assistenza installazione in più vi verrà inviato il video installazione il funzionamento e poi vi invierò io la mail il lunedì con il piano di trading settimanale quindi se io volessi acquistare solo l'indicatore solo l'indicatore 99 euro al mese siete indipendenti fate tutto da solo tutti da soli poi c'è l'indicatore con la rubrica quindi se io invece voglio l'indicatore e voglio rimanere in rubrica invece di pagare 99 più 79 pago 129 e ho l'indicatore le app per le notizie e tutta l'assistenza mia quindi poi se io volessi acquistare l'indicatore per 6 mesi c'è l'offerta del 20% quindi invece del 594 532 se volessi acquistare l'indicatore per un anno invece di fare 99 per 12 viene dato a 999 e poi per chi ha fatto minimo 4 mesi di academy verrà dato l'indicatore a 99 euro al mese e avrà tutto anche la rubrica EA e app ok quindi chi invece non è interessato all'indicatore continua a stare in rubrica a 79 o a 59 euro quindi sono stato chiaro per le offerte quindi se io volessi acquistare l'indicatore voi acquistate l'indicatore e costa 99 euro al mese se acquistate l'indicatore vi verrà inviato l'indicatore con l'assistenza per l'installazione il video dell'installazione si ci sarà la registrazione della trading room poi la domenica io vi invierò una mail con il piano di trading settimanale questo dai primi di gennaio se io invece oltre all'abbonamento tv voglio continuare a stare rubrica voglio continuare a stare rubrica che costa 79 invece di pagare 79 più 99 pago 129 ho tutta l'assistenza compresa la chat compreso le analisi compreso le A per trattare le news e così via questi sono gli abbonamenti per 6 mesi 12 mesi poi c'è il club academy chi fa il club academy chi ha fatto l'academy per 4 mesi compra l'indicatore a 99 euro e ha anche la rubrica con Ea e Up la rubrica i segnali chiaramente non sono gli stessi della rubrica percogliono percogliono poi mette nell'indicatore tutti i sottostanti che vuole può mettere azioni indici che io non ho che io non ho quindi una volta che voi comprate l'indicatore comprate l'indicatore se voi invece volete avere l'assistenza su tutto allora se comprate OTV più rubrica chiaramente vi aiuterò a filtrare i segnali questa è l'offerta per 6 mesi 12 mesi a club academy e un mese chi sta facendo l'academy da due mesi deve finire l'academy e poi prendere l'indicatore quindi se io finisco l'academy con 99 euro al mese ho l'indicatore e la rubrica con Ea e Up con tutti i servizi con la chat con con tutto per recuperare 99 euro al mese si è costretto a aumentare le size ma scusa se tu hai un conto da 1000 euro non è colpa mia questo indicatore va bene per conti più di 2000 euro se io ho 100 euro sul conto è chiaro che che non posso entrare con size alti ma questo è normale se io acquisto un mese poi posso posso passare a acquistarlo perché l'acquisto è con bonifico c'è l'acquisto di 6 mesi e 12 mesi è con bonifico levo levo quindi chi finisce l'academy attenti attenti chi finisce l'academy con 99 euro al mese ha tutto in più ripete anche l'academy che comincia il 26 febbraio questa è la cosa bella chi finisce l'academy e sta con l'indicatore il club academy ripete l'academy all'infinito finché sta finché acquista l'indicatore ok quindi chi ha fatto con me l'academy che dura 6 mesi per almeno 4 mesi ha diritto ad entrare nel club academy quando finisce l'academy che costa 99 euro facendo l'abbonamento all'indicatore continua a pagare 99 euro e in più ho le app per tradere le news ho la chat ho tutto in più posso anche frequentare l'academy che ci sarà che partirà il 26 febbraio è chiaro per l'academy quindi è chiaro che chi fa l'academy già ha fatto già ha fatto la mia strategia quindi l'indicatore gli serve come conferma di tutto l'indicatore una tantum non si può acquistare l'indicatore una tantum assolutamente non si può acquistare noi lo diamo con licenza su un conto quindi voi prendete l'indicatore lo mettete nella vostra piattaforma che può essere demo reale e poi se è demo lo andate a copiare i segnali sulla vostra piattaforma ok quindi chi ha fatto l'academy anche l'anno scorso anche due anni fa anche tre anni fa fa parte del club academy quindi queste persone che hanno fatto l'academy per almeno quattro mesi attivando l'indicatore club academy possono con 99 euro rifare l'academy va bene perché chiaramente sono le persone che sono state con me più tempo quindi io devo devo dare precedenza a chi ha fatto l'academy quindi sa già la mia strategia perché praticamente l'indicatore non è altro non è altro che il riassunto della mia strategia perché allora vi faccio le domande a chi sta in academy quando noi la domenica vi mando il piano di trading che vuol dire che vado a vedere se ci sono segnali sul grafico weekly quando faccio analizza cosa fa l'indicatore va a vedere se ci sono segnali sul grafico weekly poi la sera alle 23 andiamo a vedere se ci sono segnali in trend l'indicatore va a vedere se ci sono segnali in trend allora ci sono alcune domande ancora altre domande tutto quanto partirà ai primi ai primi di gennaio durante questo mese vi farò vedere magari con dei video l'evoluzione dei segnali ci sono altre domande allora per quanto riguarda la rubrica per quanto riguarda la rubrica sapete che la rubrica è didattica quando io inserisco un segnale lo 0,5% cosa significa? se io inserisco un segnale a 0,5% di rischio cosa significa? che è un segnale a rischio ok? come poteva essere prima di una notizia o come può essere dollarocina perché metto 0,5% perché è a rischio da adesso in poi sia in rubrica sia con l'indicatore andremo a cercare solo segnali in trend allora Daniele fai la domanda perché ci sono tante domande stiamo sentiamo domande quindi chi invece non vuole l'indicatore vuole rimanere in rubrica continua tranquillamente a 59 o a 79 euro il tutto parte dai primi di gennaio c'è una domanda di Daniele Daniele fai tranquillamente la domanda e aspetto che la scrivi non ti preoccupare pronto Daniele? se avete altre domande allora quando trova un segnale weekly ti dice 0 quando trova un segnale daily lo trova la sera e quindi devi entrare quando sul weekly c'è scritto meno 3 vuol dire che non devi entrare quando sul weekly c'è scritto 0 vuol dire che devi entrare chi fa l'accademia ha tutto ci faccia esempi di entrate in trend come scusa Silvio ma tu non fai la rubrica meno 3 è già passato entrate in trend che vuol dire che è in trend con il weekly nella rubrica nella rubrica 79 mando sia i segnali sia i segnali didattici per studiare un andamento capito Daniele quindi quando tu per esempio sul grafico weekly trovi 0 0 non devi entrare invece trovi meno devi entrare meno 3 no invece i grafici i segnali teli sono della sera stesso grazie a tutti